Con l'arrivo della stagione estiva e con il conseguente aumento delle temperature in Calabria come ogni anno, si ripropone il pericolo degli incendi boschivi, che nella sta grande maggioranza dei casi sono di natura dolosa. Dietro gli incendi boschivi, lo ricordiamo, è stato ormai appurato che ci sono interessi economici importanti e di qui a breve partirà come annunciato il comandante regionale dei Carabinieri Forestali, Giorgio Maria Borrelli, la campagna anti-incendi boschiva. Già le prime avvisaglie ci sono, lo scorso anno, voi sapete benissimo che è stato un anno terribile per questo fenomeno in Calabria. Devo dire che la regione Calabria quest'anno si è mossa in tempo. La regione Calabria è l'ente che ha le competenze in questo settore, tant'è che recentemente è stato varato il piano anti-incendio 2022. Per quanto riguarda l'arma, quest'anno si presenterà sul territorio in tutte le sue componenti e quindi con le proprie competenze che sono appunto quella è la prevenzione del reato incendio boschivo e ovviamente la repressione e l'individuazione, ovvero possibile, dei responsabili sia dal punto di vista doloso che colposo dell'incendio boschivo. Involgerete anche le associazioni di settori e i vari parchi nazionali? Assolutamente, quest'anno come non mai la regione Calabria che ripeto è capofila in questa attività ha inteso valorizzare l'esperienza sul territorio delle associazioni di volontariato per cui nel piano AB di quest'anno è previsto un massiccio coinvolgimento delle associazioni di protezione civile ovviamente registrate con un meccanismo premiale del tutto simile a quello che è già stato sperimentato soprattutto nelle aree protette in Calabria, un meccanismo premiale per cui il motto è meno si incendia e più in qualche maniera si va ad essere remunerati per cui con una contropartita inversa rispetto alle superfici percorse dall'incendio. Grazie 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 Grazie